Palla in difesa per Veniero, passaggio raso terra per Vanacore, si libera di un giocatore, trafelle ed esposito sul laterale, lancia Breia, Breia si libera di un calciatore, avanza Breia molto bene, si avvicina all'area di rigore, il sinistro di Breia, palla deviata ed è corner, Massa Lubrense vicino al gol. Grazie a questa dinamica dell'azione condotta da Breia all'offensiva, dalla banderina Marino, la palla era proprio per Marino, adesso Marino si occupa di battere il corner, vediamo cosa succede in questo caso. Il destro di Marino, il cross in area di rigore, Raffaele ed esposito porta in vantaggio il Massa Lubrense, Massa Lubrense 1, San Sebastiano 0, grazie al gol di Raffaele ed esposito. Ed ecco in azione il San Sebastiano che batte questa punizione, passaggio arretrato, la palla verso il centrocampo, cercano di lanciare l'attacco all'offensiva, ma ruba palle a tardi che conquista il pallone, l'assist perfetto per Marino, Marino, Marino penetra in area di rigore e viene atterrato, calcio di rigore per l'arbitro Grimaldi della sezione di Lona, non c'è dubbio, è calcio di rigore. Marino contro Pezzella, vediamo come si svolge questa dinamica, il destro spiazzato il portiere, Marino porta due le reti del Massa Lubrense contro il San Sebastiano. Ed ecco il diagonale per Breia che stoppa la palla di sinistro, cerca di portarsi in area di rigore, affronta l'avversario, si gira molto bene, piazza la palla al centro per Vanacore, ed è il 3-0 a fuori del Massa Lubrense contro il San Sebastiano. Di nuovo in gioco la squadra del Massa Lubrense lancia in profondità, e se ne occupa di piazzare la palla al centro D'Alesio, che affronta la difesa molto bene, il suo cross in area di rigore, ed è rete di Mastellone. Il Massa Lubrense 4, San Sebastiano 0, rete di Mastellone, su una palla molto piazzata bene da parte di D'Alesio. Ci avviamo al termine, manca un quarto d'ora alla fine della gara, 4-0 risultato, tutti i quattro gol nel primo tempo, con una squadra che ha dominato questa partita contro il San Sebastiano, che comunque è una squadra tecnica, il pallone in area di rigore per De Rosa, De Rosa si punta sulla sfera, passaggio arretrato, grandissimo gol. La rete è messa a segno da Vacca, Vacca segna il quinto gol.